E siamo arrivati fin qui con un referendum che neanche serviva. Io sono contento se si esprime il popolo, ma questo referendum non lo hanno chiesto 500.000 italiani, lo hanno chiesto 70 senatori che avevano paura di perdere il posto. Allora non dategliela vinta, votiamo sì e dite agli elettori delle altre forze politiche che i loro partiti hanno votato sì e se qualcuno vi dice che vota no contro il Movimento 5 Stelle. Ditegli che può votare sì contro il Movimento 5 Stelle perché taglia pure i nostri parlamentari, non solo quelli delle altre forze politiche. Io credo che questo passaggio sia un altro passaggio importante del nostro percorso, ma non è né la fine del nostro percorso né il cambiamento evocale. Vi sto solo dicendo anche da Ministro degli Esteri che portiamo il livello di parlamentari eletti dell'Italia a livello europeo. Perché è così alto in Italia? Perché i nostri padri costituenti avevano ragione quando hanno fatto la Costituzione, venivamo dal fascismo, avevamo bisogno di più rappresentanti del territorio perché gli enti locali erano sfasciati, non avevamo una grande rappresentatività. però adesso, oggi, nel 2020, oltre al Parlamento abbiamo 76 euro parlamentari, i consigli regionali, i consigli comunali, i consigli provinciali, i consigli d'aria vasta, i consigli di città metropolitana, i consigli di quartieri, i consigli municipali, i consigli delle aree montane che stanno al mare e non stanno in montagna. Io credo che abbiamo così tanti rappresentanti. Recovery Fund, Ceramica e Referendum. Sono stati questi i principali temi toccati dal ministro Luigi Di Maio in visita sabato 12 settembre a Faenza per sostenere da una parte il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni all'interno della coalizione di centro-sinistra in alleanza col Partito Democratico. Dall'altra, il sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Insieme a Di Maio anche la senatrice Paola Taverna, l'europarlamentare Sabrina Pignedoli e la consigliera regionale Silvia Piccinini. Prima dell'incontro con gli elettori, Di Maio e il candidato sindaco Massimo Isola hanno visitato l'Alfa Tauri per congratularsi col team di Formula 1 dopo la vittoria al Gran Premio d'Italia a Monza la scorsa domenica. Queste persone avranno le chiavi dei vostri ospedali tra le mani. Se vogliamo parlare di cose serie sulle amministrative, la responsabilità che i cittadini devono sentire è proprio questa, che chi ha un ruolo come quello di sindaco o quello di presidente di regione non solo dovrà gestire quello che hanno gestito tutti quelli di prima, dovrà gestire 200 miliardi di euro del recovery fund, che sono progetti che vanno spesi bene e in fretta perché ci servono per recuperare dalla crisi economica in cui siamo stati. Ieri sera, in giugno scorso, alla festa dell'Unità di Modena il Premier Conte ha detto potremmo razonare in Parlamento sul MES mentre lei è in una posizione un po' più chiusa. Io non ho visto cambiare la posizione del Presidente del Consiglio. Ciò che posso dirvi è che noi adesso, secondo me, e lo dico da Ministro degli Esteri e da esponente del Movimento 5 Stelle, che è la prima forza politica che tiene in piedi il governo, noi dobbiamo concentrarci sullo spendere bene gli oltre 200 miliardi di euro di recovery fund e fare in modo da scrivere una legge di bilancio per il prossimo anno, quella di fine anno, che permetta alle imprese di pagare meno tasse e di dare più lavoro. Io voglio dirvi tre cose velocissime. La prima è che Faenza è bellissima, non l'avevo mai vista così, quindi grazie per avermi dato questa opportunità. La seconda cosa è che contate su di me, come Ministro degli Esteri, per sostenere una delle vostre eccellenze del territorio, la ceramica, il distretto della ceramica, che vi fa grandi nel mondo. Un settore bellissimo che rappresenta il Made in Italy, che dobbiamo vendere sempre di più nel mondo perché ci siamo abituati a vedere andare via le fabbriche e invece noi dobbiamo tenere le fabbriche qui e vendere uno dei prodotti più belli del mondo a tutto il mondo perché nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, ci saranno sempre ceti medi in tutto il mondo che vogliono comprare cose buone o cose ben fatte, cioè per forza Made in Italy. Non esiste alternativa al Made in Italy. Terza cosa importante che voglio dirvi è che il motivo per cui siamo qui, noi abbiamo davanti dei mesi difficilissimi come Paese perché dobbiamo affrontare una crisi economica che deriva dalla crisi sanitaria. Nessuno lo ha detto o pochissimi lo hanno detto, ma l'Italia ha vinto in Europa l'accordo sul recovery fund e abbiamo ottenuto più soldi di tutti gli altri paesi, oltre 200 miliardi di euro. Però questi soldi li dobbiamo spendere bene e anche velocemente. E gli amministratori locali saranno fondamentali in questo perché adesso stiamo scrivendo i progetti per accedere ai 200 miliardi di euro e aiutare le vostre aziende, aiutare i vostri comuni, aiutare le vostre province a digitalizzare, a fare opere ambientali compatibili con l'ambiente. Ma una persona non vale l'altra. Le persone sono importanti a capo dei comuni, a capo delle regioni, a capo degli enti pubblici. E quello che noi stiamo facendo oggi è provare ad assicurare un governo a questa città che sia in grado di cogliere l'occasione del recovery fund e investire i soldi in tanti punti del nostro programma.